In questo momento stiamo cercando di adeguare la nostra risposta negli nostri ospedali aumentando la dotazione dei posti letto dedicati al Covid e quindi sono iniziate delle operazioni di trasformazione di alcuni reparti puliti nell'ospedale maggiore per poter aumentare a 24 letti ulteriori di risposta al Covid. Inoltre stiamo ragionando e abbiamo dato mandato ai nostri clinici di utilizzare competenze che abbiamo anche negli ospedali SPOC durante le altre andate abbiamo dei professionisti che hanno dato con qualificata esperienze e risposte ad esempio all'ospedale di Bergato che è stato un punto fondamentale nel dare assistenza ai nostri malati Covid di bassa intensità e anche questo ospedale si è messo a disposizione per poter accogliere soprattutto malati di bassa intensità. In più il privato accreditato ha accolto alcune di nostre richieste e Villa Erbosa dalla prossima settimana attiverà 22 letti di diligenza Covid.